Se vengo ospite a casa tua, ovviamente mi aspetto di conoscere quali sono delle piccole regole di vivere comune che sono necessarie per poter essere ospiti a casa di qualcuno e anche sentirsi parte della famiglia a tutti gli effetti. Ecco, in questa paginetta troverai delle community rules molto semplici che ti danno delle indicazioni per poter vivere al meglio la tua esperienza all'interno della community Discord di MusicOff. Sono delle semplici regole di vivere comune, di buon senso, come ad esempio non condividere link con materiale protetto da copyright oppure che possa essere un attacco, un'aggressione verso una persona il tono di comunicazione che sia sempre rispettoso dell'altro non come punto di arrivo ma come base di partenza. Ecco, l'obiettivo è intessere delle relazioni che siano positive. Ovviamente c'è sempre spazio per un sano dibattito non è buono che tutti abbiamo le stesse idee anzi uno degli obiettivi è proprio quello di formare le persone ad avere delle proprie idee, delle proprie responsabilità anche legate a dei prodotti, a delle relazioni, a un genere musicale, a uno stile musicale. Dentro Discord di MusicOff troverai tante board dove si può parlare di strumenti musicali, di audio, di video, di streaming, qualche, diciamo, qualche tips and tricks su quello che riguarda la parte social, come si fa l'editing dei video. Poi ci saranno degli spazi dove troverai delle board dove si può parlare all'interno, non è soltanto un posto dove si scrive, ci possono essere anche degli spazi dove tu puoi condividere il tuo monitor e fare della didattica. Potrai incontrarti con degli amici e fare dello streaming privato tra di voi o fare della didattica per quello che riguarda i tuoi studenti. Ci sono spazi e possibilità veramente di alto livello. L'importante, ecco, è partire con questo piede. Visto che non facciamo le cose di getto e quando scriviamo dietro a un monitor c'è sempre tempo per riflettere un secondo, ecco, prima di premere invio facciamoci una domanda, ma quello che sto scrivendo ferisce quella persona che sta là davanti a me? Potrei dirglielo in un altro modo? Questo non vuol dire rinunciare alle proprie opinioni ma significa imparare a vivere in maniera più civile. Purtroppo questa società ci ha un po' abituati negli ultimi anni in particolare a essere molto schierati. Io ho le mie idee, non ne voglio scendere a patti con nessuno anzi ti aggredisco per dimostrare che le mie idee sono meglio delle tue. Ecco, questo non è il posto adatto. Non è proprio il posto adatto perché abbiamo aperto questo spazio proprio perché vogliamo che ci sia una sana condivisione una relazione sana con il rispetto reciproco la voglia di conoscere l'altro, di andare a scoprire i suoi talenti scoprire la sua musica, scoprire le sue peculiarità imparare qualcosa da lui oppure noi insegnare qualcosa a qualcun altro con grande disponibilità. Sarà un'esperienza magnifica che faremo crescere insieme a voi io quindi vi invito a leggere un momentino questo piccolo regolamento e farlo vostro. Sono proprio delle regole di vita comune, di buonsenso che ci faranno bene e ti faranno anche vivere un'esperienza più piacevole a te e a tutti gli altri utenti della community Discord di Music Hall.